La Regione Toscana ha deciso di proclamare lo stato di emergenza a San Gimignano dopo il crollo di un tratto lungo circa 20 metri delle mura medievali. Lo ha annunciato il Presidente Enrico Rossi, arrivato nella cittadina senese per un sopralluogo insieme al Sindaco Giacomo Bassi e alla Vicepresidente Monica Barni. Rossi ha dichiarato che metterà a disposizione nuove risorse del bilancio regionale perché c'è da iniziare subito il lavoro per ritirare sulle mura di San Gimignano, una delle città che fanno l'immagine della Toscana nel mondo. Oggi proclameremo lo stato di emergenza, se ci sarà bisogno faremo una verifica ora in comune, metteremo altre risorse. La sovrintendenza ha dato la disponibilità ad un intervento di prima urgenza di 300 mila euro, quindi faremo quello che deve essere fatto. Per mettere in sicurezza l'area e partire subito coi lavori è stato messo in piedi un tavolo di lavoro che vede impegnati il Ministero dei Beni Culturali, la sovrintendenza di Arezzo, Siena e Grosseto, la Regione e il Comune. E ora ci si muove intanto per mettere in sicurezza la zona, per evitare che altri tratti crollino e quindi per consolidare il paramento rimasto in piedi. Poi opereremo per il recupero delle macerie perché è comunque materiale originale che dovrà essere riutilizzato il più possibile e poi imposteremo un lavoro di ristrutturazione e di ricostruzione del muro. La Regione ha messo già a disposizione per San Gimignano 700 mila euro del vecchio piano operativo regionale per interventi di manutenzione delle mura e un altro milione e 200 mila euro per il progetto di restauro dei camminamenti insieme ai 600 mila del Comune. L'impegno del Presidente Rossi è quello di mettere in campo altre risorse. Se queste mura ci sono da otto secoli e non sono mai crollate, vuol dire che negli ultimi decenni se crollano gli uomini qualcosa di scorretto lo stanno facendo. Quindi bisognerebbe su questo usare la testa, fare delle indagini, se c'è da canalizzare in modo corretto qualcosa lo si faccia perché la prevenzione è meglio della cura.